Da Expo la risposta dei salumi italiani di qualità all'allarme cancerogeno lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche al via libera da parte dell'Unione Europea agli insetti nel piatto. Alla Kermess milanese è stato infatti preparato un panino da record con la più grande pagnotta di pane di Altamura a denominazione di origine protetta mai sfornata prima, dal peso di un quinta alle mezzo e lunga a tre metri, farcita con i migliori salumi d'op della tradizione italiana, tra cui soprattutto il prosciutto di Parma. L'iniziativa è stata organizzata dagli allevatori e dai produttori della Coldiretti. Il super panino verrà donato al Banco Alimentare, l'organizzazione di volontariato che destina i prodotti alimentari alle persone indigenti. Intanto, dopo l'OSOS lanciato dall'OMS sui pericoli derivanti dal consumo di salumi e carni lavorate, alla Camera dei Deputati è intervenuto l'onorevole parmense Giuseppe Romanini, che ha chiesto al Governo di fare chiarezza e corretta comunicazione al fine di salvaguardare non solo i consumatori, ma anche i lavoratori dell'importantissimo comparto agroalimentare del nostro Paese. Bene hanno fatto il Ministro dell'Agricoltura Martina e la Ministra della Salute Lorenzin, che peraltro ha già attivato il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare, a confermare con le loro dichiarazioni che nel nostro Paese abbiamo i più alti standard qualitativi e di sicurezza a livello mondiale sulla produzione e lavorazione delle carni. In più nel nostro Paese il consumo è a metà della soglia di rischio indicata dalla stessa OMS, in coerenza con la dieta mediterranea che assicura le più lunghe aspettative di vita. Questo mio intervento vuole essere quindi un invito al Governo affinché nel più breve tempo possibile fornisca ai consumatori gli elementi di chiarezza necessari al ripristino di una corretta informazione, strumento indispensabile per scegliere cosa mettere sulle nostre tavole. Romanini ha anche sottoscritto l'interrogazione presentata con i colleghi del PD della Commissione Agricoltura in cui si chiede al Ministro di fornire al Parlamento e all'opinione pubblica informazioni precise circostanziate sul consumo delle carni sulla base di riscontri effettivi fondati su dati scientifici e su criteri di rigorosa riproducibilità.